ciao ragazzi oggi andiamo da selli e abbiamo portato questo guardate chiaramente sarebbe pasta con pane con un po di pollo pure adesso andiamo in macchina tra 3 2 1 la visiteremo adesso andiamo da selli tra 3 2 1 ok raga sono in macchina e c'ho questo guardate pizzette pure pollo secondo me mi piacerà da morire anche perché selli non mi ha visto da molto tempo vediamo un po la strada la strada Questa è il formato. metti la cinta ok ecco qua ho messo la cinta ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' strano sto nuovo. Sei mai di parazione iPhone? Vabbè. Ed ecco qua che adesso andiamo da selle. Siamo proprio qua. E' un po' subito. 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 Grazie di aver messo la macchina qua così almeno non posso passare e diventerò le piante. Dico quando papà inserisca la chiave. Ecco qua. E' una specie di fattoria. Adesso andiamo dai. Faccio vedere il po' subito. E' un po' subito. E' un po' subito. E' un po' subito. E' un po' subito. non eccola qua non c'è più la uccia qua papà ma dov'è Sally? i pulcini vabbè ci sono mille mosche i pulcini sono diventati grandi eh giganti guarda lì i pulcini piccoli nei cassa lì sono belli un gatto un gatto dove dove è piccolo me lo prendi ma dov'è l'acqua di preciso infatti avevo sentito però vabbè dove è Sally? i pulcini si mi piacciono? si che belli papà che ha aperto giù? vabbè ce l'ho io chi ha? dove è giù? vediamo dove è giù? questo è Sally come lo li vedi? si vediamo se è qua Sally se è lì se è l'ona se è là sta diventando sempre più bello dov'è? dov'è? vediamo ah l'altalena vediamo un po' l'altalena è nel boschetto? sta a pulire nella casetta bello e lo scivolo piccolino bello ma vedi guarda un po' raga sta diventando sempre di più una fattoria ma è stata pulirla però eh lo so però penso che è troppo piccola per me no no va bene ok sta pulendo qua quella papà devi pulire ma ti piace questa? si bella la devo pulire però vedo e la casetta? la casetta penso che pure quella la devi pulire ti piace però? bella si vuoi vedere la casetta? si hai visto? dove è Sally? guarda la casetta lui papà la pulisce ti piace? si si andiamo raga siamo proprio in un moschetto e voi mi state rilieando ma non c'è paura degli animali selvatici? no perché non possono arrivare fin qui troppo alto poi ci sono delle sporgenze ma ovviamente non possono saltare così in alto da arrivare da noi mai capitato mai succederà a la barca ah la barca c'è raga guardate c'è raga guardate ah le galline ok lo porto io il cibo dammi un casino fatto sei lì guarda un po' vieni guarda un po' sapete hai visto? sei lì hai visto? che amore aspetta non apri l'aspetta aspetta guarda come il cotetto ti vedi qua? si guarda guarda ti fai fessi? si dai apri vieni Sally Sally cucciola cuccia è troppo eccitata papà eh perché ti ha visto credo crede? comunque si è pure accoppiata tra poco fanno i cuccioli perché ti ha visto e contenta si sei lì amore cucciola sei lì dimmi se ne frega te ne frega di più di te no voi sapete che io ho fame amore salì 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 c'aveva famissima c'aveva famissima posso entrare? vediamo un po' la casa bella almeno così se piove ciao Sally c'è il coniglio c'è il coniglio il coniglio è il coniglio ma poi un giorno li liberi si però non entra troppo lì c'è una cosa qui eccolo guarda che corino aspetta bisogna mettere i piedi non si avvicina troppo lì qui c'è questa cosa la cacchetta ma perché? adesso sono piccoli piccoli non direi proprio però guardate c'è cacca dappertutto ti saprò sì coniglio eh sì e qua? qua cosa c'è? niente? no Sally Sally se ne frega di me se ne frega poco anzi niente sta mangiando Sally amore comunque si si sono copiati da poco Dubai cosa? le vedi? oddio le hai viste? si ormai è tutto verde ma le vedi? si sono belle ha visto quante papà ce n'ha? tantissime uno ha fatto uno ha fatto wow wow mi hai visto? c'è raga ha fatto uno ha fatto wow wow si è bello come posto senti ora papà pulisce l'arcalena e lo scivolo dopo ci vai? si ti piace? si tu 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 eh tina tassa capino ha preso per te lo so sei contenta? si può portare un po' in giro Sally si si Sally Sally ti 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 Oh! Salì! Selina, Sella Cioè guardatela, quanto è grossa Quanto è una mucca raghe No no, piccola Fa dei giri, 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 giri già al giorno Eh ma dove? Selina, di me se ne frega No, perché se no questa c'è un po' addosso, vedo Se ti calma un po' perché ti ha visto, vedo Puoi fare la cacca No, e Selina la portiamo a spazzo alle 8 proprio Sono le 8 di mattina Accarecela dai Accarecela Dai Non ti bagnetti Hai visto? Accarezzala pure tu Andiamo Eh mamma mia Posso portarla io? Eh tira, mi ha fatto cascare con la porta Come ti ha fatto cascare? E' un po' Me ne ho qua Può portarla un po' giro a cieli e dopo andiamo ai gattini Vedi dove? questo territorio dice già ammarcato però alcuni territori lei non l'ha ammarcati ciao nonno se ne frega poco di lui poverino ma perchè a me non mi prende e no sto bevendo eh fai niente a che riccia fai niente a che riccia sei lì? se ne frega poco perchè a me non mi fa ah quindi dopo se ne frega di me prima pensa a se stessa no no la legata vuol camminare un po' no aspetta che forse è qua reparti i video riservi lo sto facendo e carecciala dai carecciala dai sa lì carecciala dai e careccia dai 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 hai visto? amore dai so te ve niente hai visto? hai visto? dai hai visto? hai visto? i gatti un posto di vino però guarda che ci sono pure i cuccioli ma tu ce l'hai il cibo per gatti in macchina? penso di no dai chi se l'ha aspettato? ne ho visto uno dai 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 ti è dai dai hai visto? mamma mia una però una volta la cacca l'ha fatta nel dove è chiusa lei una volta però l'ha fatta vabbè non ce la faceva più l'ha dovuta fa qui sono altre galline guarda sopra oddio madonna raga urlano urlatrici galline dove sono i gattini sali non tanto comunque raga ditemi come volete io sono un amante dei gatti mi conoscete pure perché faccio sempre video su di loro però dovrei ammettere che io amo un pochino di più i cani perché sono più affettuosi però vabbè ognuno ha la sua opinione quindi quindi non direi che ad esempio sono stupida perché mi piacciono ad esempio di più i gatti più i cani perché ognuno ha i propri gusti e non bisogna direi che ad esempio il tuo gusto è brutto perché fa parte della personalità della persona ovviamente se giocosa come io perché io voglio sempre giocare oddio ho pensato una farfalla la farfalla foglia ma anche se il tuo gusto è brutto ma non c'è questo ma è solo la tua narizia ma non c'è il tuo gusto ma non c'è questo 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 Ti piace se è lì? È bello Cerca di capire la fonte del dolore E loro due stanchi dell'abbaio del cane Qua stanno i gatti, qua stanno i gatti, qua stanno i gatti Dove, 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 dove Dove stanno i gatti Eccone uno Micho Ciao 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 Appena dorato Ciao 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 che hanno fatto l'accoppiamento lascia un attimo ferma sally e se no cioè guardatelo ferma sally non è vero cosa fa con i gatti che ci va d'accordo grazie 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 grazie